Sono Antonio Menna, sono laureato in ingegneria gestionale presso l'Università di Bologna e lavoro in Snam da circa dieci mesi. Sono stato inserito nella direzione affari regolatori, nello specifico nell'ufficio regolazione estera, dove ci occupiamo dello studio e dell'analisi dei principali sistemi regolatori europei. Sono entrato in Snam lo scorso settembre per uno stage che costituiva parte del Master in Energy Environment and Communication, a cui Snam ho partecipato come partner. Sono sempre stato interessato al settore energy, infatti già durante il mio periodo universitario ho sempre cercato di indirizzare i miei piani di studi su tematiche energetiche. Tale Master, oltre a fornirmi i principali strumenti per lavorare in questo settore, ha affrontato in maniera importante anche l'aspetto della comunicazione, che risulta essere una tematica di crescente rilievo in un settore in profondo rinnovamento come questo. Il supporto dell'azienda si è fatto sentire sin da subito, attraverso le attività di formazione destinate ai neolaureati, come ad esempio le varie testimonianze o le visite sul campo. Queste attività, oltre che fornirmi le principali informazioni connesse al business di Snam, mi hanno permesso di entrare in contatto con altri ragazzi che stanno vivendo le mie stesse esperienze lavorative. Già nelle fasi iniziali dello stage sono stato seguito in maniera molto attenta dal mio tutor e dai miei responsabili, che mi hanno coinvolto da subito in tutte le attività dell'ufficio, mettendomi immediatamente a mio agio. Lavorare in una società di carattura internazionale come Snam e in un settore in continua trasformazione come quello del gas conferisce degli stimoli importanti sia per una maturazione personale e sia per una prospettiva di carriera professionale di alto livello. Ai giovani laureati come me in cerca di lavoro, mi sento di suggerire di individuare un settore di interesse e focalizzare l'attenzione su questo settore, scegliendo con cura master e stage da seguire.